Immediato ricorso in Lega con cui si chiederà la sospensione dell'omologazione del risultato e della stessa partita al fine di far luce su quanto accaduto prima del fischio d'inizio. Il gioco da calcio non ci sta e si è subito attivato per fare valere le proprie ragioni. La partita di sabato scorso a Mondello contro la Parmonval finita 1-1, dunque destinata a finire sul tavolo degli organi competenti, perché la situazione che si è venuta a creare in terra palermitana lascia sbigottiti. Il club biancazzurro, in una nota diffusa ieri, sottolinea che non si possono accettare le intimidazioni, la violenza prima di una gara e l'agguato premeditato. Parmonval Gela è stato tutto questo, a cominciare dall'autobus bloccato fuori dallo stadio, all'aggressione fisica nei confronti di alcuni dei nostri giocatori da parte di persone armate di tirapugni e che avevano la casacca della società che in teoria doveva ospitarci. Passando poi, ribadisce il Gela, alla sottrazione della valigetta contenente tutti i documenti dei nostri tesserati e poi restituita senza i tesserini di tre dei nostri importanti calciatori costretti a rimanere pertanto in tribuna. E poi che dire, sottolinea ancora il Gela, della presenza di personaggi appartenenti ad altre società del girone, ospitate in maniera comoda, mentre il nostro vicepresidente e il nostro direttore sportivo sono stati costretti a pagare il biglietto d'ingresso. Tutto questo approfittando del fatto dell'assenza delle forze dell'ordine che, preventivamente allertate dalla nostra società, hanno raggiunto lo stadio 20 minuti prima dell'inizio della gara. Tutto questo sotto gli occhi dei commissari di gara, ai quali adesso chiediamo di far luce su tali episodi affinché chi ha sbagliato paghi una volta per tutte. Perché è semplicemente inaccettabile subire certe angherie tribali da parte di chi con il calcio non ha nulla a che fare. Certe vicende, se non drasticamente sanzionate, ribadisce il club gelese, potrebbero darla vinta a chi ritiene che la legge della prepotenza debba prevalere su quella dello sport. Infine, subito dopo la gara, è stata presentata riserva scritta all'arbitro e ai commissari, con preannuncio di ricorso, come dicevamo, da presentare in Lega entro oggi pomeriggio sui gravi fatti subiti. Sotto l'aspetto prettamente agonistico, il pareggio in casa della Parmonval è stato attutito dagli altrettanti pari ottenuti dalla San Cataldese in casa con il Castelbuono e dal Dattilo Noir ad Alcamo. In vetta al girone A di eccellenza, dunque, non è cambiato nulla. Comandano sempre in tre. Il calendario domenica prossima prevede lo scontro diretto tra Dattilo Noir e San Cataldese, mentre la formazione di Totò Bruculeri se la vedrà in casa contro il Mussomeli. Potrebbe essere la partita della svolta in chiave promozione diretta.